ciao a tutti oggi voglio mostrare come si prepara una trappola per tuta absoluta con feromone ci occorrono una bottiglia in pet un feromone lunga durata un fil di ferro 250 ml di acqua e un poco di olio adesso andiamo a preparare la trappola foriamo la bottiglia sul collo facciamo una x sul tappo e qui insidiamo il fil di ferro poi apriamo la carta di feromone eccola qua andiamo a forare su un bordo ma è fra la giusta accende perché voi viene disattivata questo modo poi all'interno della trappola andiamo a posizionare i 250 ml di acqua è un filo di olio l'olio servirà per far sì che l'insetto rimanga attaccato e non voli via una volta catturato poi mettiamo il tappo sopra la bottiglia non deve toccare sull'acqua deve stare diciamo a 3 4 cm dall'acqua con con l'olio e questa qua andiamo adesso a prendere i nostri pomodori con un'altezza più o meno di 70 80 centimetri ok andiamo a posizionarla ecco la trappola appesa sul filo accendere della fila e adesso andiamo a vedere una trappola posizionata tre giorni fa cosa ha catturato andiamo a guardare ecco come possiamo notare all'interno della trappola posizionata tre giorni fa le tute catturate questi sono tutti quanti maschi e così vedremo l'accoppiamento con le femmine non ci saranno più deposizione di uova per altri consigli segui sempre il nostro blog coltivafacile.it e i nostri canali social saluti alla prossima